Sì, sicuramente siamo molto più tranquilli. Penso che possiamo andare a Trieste con un pizzico di serenità in più. Però, come ci siamo detti noi, dobbiamo andare a fare due finali, perché per noi possono essere veramente importanti in vista di cose ancora più importanti, che penso che arrivati a questo punto non vedo perché non dobbiamo provarci. Dobbiamo andare lì a fare due partite, che sono due partite importantissime, due squadre forti, e poi a fine campionato tireremo le somme. Però penso che arrivato a questo punto, io almeno personalmente, ma penso anche a tutti i miei compagni, ci vogliamo provare. Ti direi una cavolata se ti dicessi che quando vengo sostituito sono felice. Nessun calciatore è felice quando viene sostituito, però devi pensare che ci sono anche gli altri. Se il mister decide di sostituirmi ci sarà un motivo, quindi le cose devono essere accettate per quelle che sono. Ho fatto 9 assist quest'anno, si vede che sto facendo un lavoro diverso. A dirla tutta, quest'anno l'appunta l'ho fatta veramente poco, l'ho fatta una volta contro la Giana. Però l'importante è raggiungere l'obiettivo comune, poi penso che i risultati quando raggiungi l'obiettivo comune personali anche vengono di conseguenza. Fare 9 assist secondo me non è una cosa da poco per un attaccante, però questo fa capire che come ho detto la prima volta che sono arrivato qui devo lavorare per stare più vicino alla porta, però quando giochi con un giocatore come Infantino che è forte sotto porta, lo devi far stare davanti alla porta perché Saverio quando tocca una palla fa gol. Sicuramente il mister ci ha dato una grande mano, sia in campo che fuori, perché comunque sia un motivatore. E anche quando le cose andavano male ci ha sempre creduto, ci abbiamo sempre creduto anche noi, ci ha sempre spronato e ne va dato merito anche tanto a lui.